Ciao a tutti, sono Fabio Carisse e con Beppe Bergomi vi do il benvenuto all'Iduna Park che farà da cornice la partita odiene Ciao Fabio e benvenuti a tutti Beppe, secondo te cosa possiamo aspettarci da questa partita? Credo che le due formazioni siano sullo stesso piano, saranno i dettagli a decidere questo incontro Piove, speriamo che il terreno di gioco regga fino alla fine Grazie a tutti Grazie a tutti L'arbitro si consulta con i suoi collaboratori e dà il via alla partita Si spinge in avanti I difensori sembrano veramente importanti Si fa l'arbitro, prova il tiro Attenzione, gol! Il primo tiro si trasforma nel primo gol Müller Bastian Schweinsteiger Gomez Possibilità di ripartenza veloce Gioco di passaggi Gomez Gomez Robben, grande controllo lì Bayer di Monaco si stanno rendendo pericolosi Attacco pericoloso del bagno Vediamo il tiro Palla fuori, sarà il portiere a rimettere il gioco Subotic Subotic Bender Bissak Bissak Corsa Pruva con la testa Non trattiene Ribery Bissak 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 Ha cercato lo spunto per andare via Ma la palla è uscita Bende Falta in tiro La palla è uscita Caccio d'angolo Si fa sotto Robben Pallone che torna in possesso degli avversari Ribéry Raggiunge il compagno Sbaglia la misura, fa la palla Schweinsteiger, palla al piede Porta palla verso l'area Heavy Martinez Lam Gomez Gioco di passaggi Robben Qua bombato Lewandowski Passaggio intercettato Serve il compagno Ribéry Attenzione Si compila Si E ora devono cercare di prendere le distanze Un tiro a volo che non lascia spazio al portiere Mamma mia che gol Ha cercato la soluzione calciando di prima intenzione con grande controllo Un gol sofferto e cercato Ha ribadito a rete la respinta del portiere Si avvicina l'area Bende Fermata l'azione d'attacco Lottano per il possesso della palla Sarebbe attuto un calcio di punizione Stiamo per assistere a una sfida che si preannuncia equilibrata Il Bayern Monaco dovrà impegnarsi davvero per conquistare la vittoria Bende Tenta La conclusione c'entra ogni persona E sarà a calcio d'angolo Ha avuto un momento di panico ma ha spazzato Tiro C'è il cross Cross fermato dal difensore E spazza via in qualche modo Tenta di portare di via il pallone Trova il compagno Ribéry Tiro dalla distanza Tiro sballando di Gomez Subotic Goetz Ha una visione di gioco a 360 gradi A volte si ripartirà Non caccio di punizione Bel passaggio Prova Col posizione Bende Avanza verso l'altra A spazio Previ di periti di posi Il pallone però è uscito L'anno Si sparazza dell'avversario Mi ha subito smentito e si è ripreso il pallone Gomez Palla al compagno Chiusura Buonissima L'azione non può procedere Scarica sul compagno Lewandowski Possono ripartire Questo mette fine a controvieno Nuller Robben Goetz E ormai in zona d'attacco Grande opportunità La palla viene messa in mezzo Ma finisce Breda degli avversari Prova a tirare in porta E l'arbitro dice che può bastare I primi 45 minuti di gioco Si chiudono sull'1-1 Un primo tempo equilibrato Sia nel gioco come nel risultato Infatti Se non cambiano mentalità Credo che il risultato Rimara questo Fino al novantesimo Ribery Alaba Palla al compagno Grande giocata Passaggio sbagliato Palla fuori E sfuma l'azione Allunga il compagno Pende Appoggia il compagno Pende Prendolo Sviluppa lo gioco Schweinsteiger si mette nella traiettura del passato Lamp Robben Gomez Robben Passa l'avvento Müller Javi Martinez Gomez Ottimo passaggio Bayer di Monaco Con una manovra All'attacco Interviene La difesa avversaria E spezza l'attacco La formazione ospite Sta per schierare In campo Forze fresche Schweinsteiger Gli va via Passaggio riuscito Si muovono bene Non è solo al centro Scatta e lascia indietro Zomarcadone Sono pochi giocatori Si fa largo Prova il tiro Calcio d'angolo per il Bayer di Monaco Sta cercando di sbloccare la partita Tramite un nuovo assetto tattico Hanno buttato il vento Grande tiro Lewandowski Tiro di Schweinsteiger dalla distanza Palla sulla trevenza E devono ringraziare il loro portiere Per aver evitato un gol Che sembrava certo Non devono sottovalutare Le toglie balistiche Intentativo di testa Bella parata in topo Parata che può essere fondamentale Mantiene il pareggio Sendo la perfezione il compagno Si può sotto E ci si mette a gioiscono Si sono potenti in vantaggio L'allenatore sta cercando Di inventarsi qualcosa In questa reprisa Per cercare di riequilibrare Il risultato Un cambio tattico Potrebbe anche essere Una mossa vicenda Vashifovsky Robben Prova ad andare via Lam Lam La passa al compagno Levandowski Vashifovsky Avanza Palla al piede Palla al compagno Tiro in previsto Prova a inventarsi qualcosa Ma il tiro finisce abbondantemente fuori Decisamente L'ha alzata troppo Fabio E guadagnano un calcio d'acqua Allontano il pericolo Bravissimo La palla è nuovamente Preta negli avversari Dopo il mio della difesa Cruz Alaba Avanzano un passaggio Dopo l'altro Fallo laterale Per il Bayern di Monaco Analizziamo il dato Sul possesso palla Delle tue spalle Ribéry Alaba Con un numero Salta l'avversario Ribéry Riceve la palla Lungo la linea laterale Si spinge in avanti Cruz Riesce il passaggio Gli avversari Interrompono l'azione Si è fatto rubare la palla Grande leggerezza difensiva Vashikovsky Cruz Lam Robben Serve il compagno con precisione Non sta sbagliando Un passaggio L'occasione sfumata Palla persa Cerca il gol Tiro completamente fuori Bersaglio Poteva essere pericoloso Ma non è riuscito a Completizzare Il Bayern Il Bayern di Monaco Tiene un calcio D'angolo Questo cambio Non è di certo Un provenimento Nei confronti Del giocatore Sostituito Lewandowski Götz Götz Stiamo entrando nei minuti finali Dell'incontro La tensione è altissima Le due squadre Sanno benissimo Che ogni azione Ora può essere decisiva Si avvicina all'aria Si libera dell'avversario E perdono palla Nella propria aria Ha spazio per il piano Oh Ha degliato la traiettura Del Pio Smarca il compagno Con un gran lancio Attenzione Palla respinta Da un difensore Cross Ribéry 85esimo minuto Per ora stanno riuscendo Ad amministrare il vantaggio Batsch Tuber Buon movimento Ribéry Va Cross Circa Novak Bel passaggio Palla Ecco il tiro Insuperabile portiere Manca poco Al termine dell'incontro Vediamo se riusciranno A sfruttare il corner Per mettere al sicuro Il risultato Tiro dalla bandierina Battuto davvero male Gli avversari ringraziano Palla al compagno Dal tempino Conclusione da dimenticare Un errore incredibile Fabio Ultimi giri d'orologio Rimesso da fondo Da non sprecare Bischek Il quarto uomo Esibisce il tabellone Luminoso Che indica due minuti Di recupero Ancora pochi giri di orologio Non devono sprecare Questa occasione I difessori sono stati Molto veloci Nel riconquistare Il pallone Ribéry Dentro l'aria Via Però sorprende la portiera E il Bayern di Monaco vince Splendida vittoria Una partita Veramente divertente